Debutta sul mercato The Order 1886, tre titoli più attesi del 2015, il nuovo gioco in esclusiva per PlayStation 4, sviluppato da Ridi e Dawn. Lo ha pregettato Andrea Pessino, che 40 anni fa ha dovuto lasciare l'Italia, dove non esistevano ancora studi di sviluppo di videogame, per inseguire il suo sogno. In America ha trovato successo e ora lancia il primo gioco che il suo studio ha pensato. Fin da bambino avevo questo desiderio di particolarmente lavorare su videogiochi e ho provato in Italia un po', allora non esisteva veramente una possibilità di nessun tipo. The Order 1886 si prepara a rivoluzionare il mondo dei videogames, proponendo una nuova miscela vincente tra azione e avventura. È un esperimento nel prendere quello che, secondo noi ovviamente, è più affascinante e interessante della narrativa e mescolarlo con metodi di gioco più tradizionali. Quello che lo fa sentire diverso il gioco è quella che è la caratteristica più importante, che cerca di mescolare le due cose in un unico flusso. Per PlayStation 4 The Order 1886 sarà un successo. Una grafica eccezionale a livello cinematografico, una storyline, una sceneggiatura molto corposa che accompagna le azioni di gioco, quindi un mix perfetto fra azione e riflessione, fra storia e gameplay. In una Londra vittoriana del 1886, una Londra alternativa, un ornie di cavalieri, dei mezzosangue che bisogna sconfiggere, delle ribellioni. Insomma, storia, mito, leggenda si uniscono per un gioco che sarà sicuramente la passione dei nostri utenti.